ciao a tutti oggi prepareremo i fish and chips il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa gli ingredienti sono patate filetti di merluzzo latte tuorli farina di tipo doppio zero e olio evo diamo il via alla ricetta per prima cosa friggere le patate in abbondante olio caldo e metterle da parte mettere nel boccale il latte l'olio la farina il sale e i tuorli ed azionare il bimbi per 50 secondi a velocità 6 trasferire la pastella in una ciotola abbiamo tagliato i filetti di merluzzo a quadrotti passarlo nella pastella e friggere in abbondante olio caldo fish and chips grazie e alla prossima ricetta ciao 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 ciao